Ciao ragazzi, io sono BokoGamers, io sono Tsuki E io sono Ryozan E ben ritornati in questo nuovo episodio di Captain Tsubasa Dream Team Eheh, pool fantastici e dove trovarli? E allora, molti di voi sapranno che lì e questi giorni non stava male, quindi... Non stavo male Non stava bene, e lo so, è mattina, lo sai che io non carburo molto in fretta E praticamente c'era il banner, un banner che gli interessava E allora gli ho detto, vabbè dai, registratelo poi al massimo Faccio io la reaction, detto i pool, quindi io ad ora non so cosa lui abbia preso Non sa come sia andata E quindi niente, adesso facciamo partire la clip e vediamo come è andato il tutto Allora, siccome ero mezzo rintronato, sono parlato che stavo già pullando raga Comunque il banner degli stranieri, quello con Piero e Roberto E sto cercando Roberto Questo è il vuoto Prima multi, si vede che è clamorosamente vuota raga Quindi cominciamo benissimo, come vedete ho altre 115 dreamball Per cui riuscirò a finire il giro Però dai, almeno una palla nera SSR più 5 che non fa schifo Qua i mitici metodi Vedete le banner qua? Sì, ho già fatto i tagli perché ho dovuto vendere ogni volta con l'inventario perennemente quasi pieno Qua ci ha pensato un poco Tre flare Fiamme dei samurai con Misaki la tua gamba Stai anche facendo finta di non sapere No, io non so come è andato Vabbè qua c'è uno almeno Infatti qua uno c'è Un SSR alla seconda multi raga Vediamo un po', sarà Roberto Ed eccolo, Pierre Allora, dopo i pull Io gli ho detto, se va secondo me è Pierre Che ti è uscito E lui mi ha guardato un po' così E ho detto, vabbè, non lo so Ho fatto lo screenshot per ogni evenienza Perché comunque è davvero un gran bel giocatore raga Non è Roberto ma non mi posso certo lamentare di averlo preso Soprattutto con 100 dreamball Ovviamente però, cerco Roberto Per cui manca un tentativo per avere poi la multi free Quindi ho detto, continuo ad andare Faccio queste altre due multi Vediamo un po' se sarò benedetto Da Roberto Ongod Versione nuova Il vero Roberto Ongod Qua Tsubasa con Aoi Ovviamente la tristezza dell'animazione Ve l'ho proprio risparmiata raga E qua, come vedete È andata così Con questi R ed SR strani Però Una pallina SSR Giusto per E adesso abbiamo la free Vediamo un po' Sto pensando un po' Vediamo un po' Freccia blu Nessun flare raga Questa sembra vuotissima E infatti è vuotissima Praticamente su 4 multi Un SSR Che per almeno era uno in rate up Quindi Non mi posso lamentare Non è quello che volevo Però non mi posso lamentare È un gran bel giocatore E adesso vedremo un attimino Anzi vedrò un attimino Cosa farci con questo PR Io Sono perennemente senza dreamball Sto andando di singolette Quando è possibile Quindi Sono disperata ragazzi E vabbè Oggi poi è uscito un banner Con Tsubasa e Morisaki in rate up Che sta tentando Però Non ho 15 dreamball Perché nel frattempo C'è stato l'evento Accumulo Quindi Ho rimpinguato un po' Però Non so se cipullero Zucchi Stava pensando qualche singoletta Però Vedremo un attimino Cosa fare E niente Il pull sul 3 più 1 Di Roberto e Piero È andato così Preso Quello che Mi serviva meno Ma che comunque È un giocatore top Sotto tutti i punti di vista Dovrò trovare il modo Di usarlo Più che altro E soprattutto C'è il rebus Se usarlo Offensivo o difensivo Eeeh Devo vedere anche Se ho qualche tiro Decente Per usarlo Offensivo Vista quella passiva Mostruosa che ha Ma Questo Ne parleremo un'altra volta Tra l'altro Se vedete questo video Prima dell'amichevole Sappiate che è stato Registrato Dopo l'amichevole Esatto Quindi ovviamente Nell'amichevole di oggi Vi spoilerò già Che sto facendo Degli esperimenti Quindi Non sarà Il team Che stavo portando Di solito E non è Tra l'altro Non è più Neanche quello Che sto usando adesso Perché stavo facendo Varie prove Per vedere un attimino Di farlo girare E niente Prima del prossimo Fantastico video Di Capitain Tsubasa Dream Team Zuki vi invita Seguici su tutti i nostri profili social Che troverete nel link In descrizione Che non si serve Di iscrivervi al canale Condividete Mettete il piaccio Attivate la campanella Supportateci con tutte queste azioni Fateci sapere se volete vedere A reagire ad altri video Di questo genere O se preferite Oggi noi abbiamo fatto L'esperimento con Rio Perché stava male Per cause di forza maggiore E niente Noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ehi tu Sì proprio tu Non puoi chiudere il video Senza aver messo like E senza condividerlo Non vorrai mica far arrabbiare Bocco Non sei ancora iscritto al canale? In alto troverai il nostro magnifico Trio in versione ridotta Cliccaci sopra E attiva la campanella Non preoccuparti Non attiverà strane sonerie Ma ti avviserà Non appena sarà disponibile Un nuovo video In alto nei due lati invece Troverai due video Scelti apposta per te Con le mie zampette Grazie per aver seguito Fino alla fine Ci veniamo Alla prossima